Accidenti di traffico nebbia contessa e a area Watulete risulta al giunto comandante Polizia Squadra Venilale soffre canectoran. Al giunto comandante Polizia Squadra Venilale Sargento Sefi Sebastiano Fretas soffre canectoran e a imparte lo stamba careta soche e a area Watulete su cutrilolo post-administrativo Baucovila. Comandante Polizia Municipio Baucovila Superintendente Sefi Armando Monteiro Bartetel Sestaferaneteten. Motivu acidentine mosu wa ira vitima ho motorato fila tamba la area kareta microletida husikotuk soche vitima rezulta a imparte lo soffre canectoran. Comandante firma adjunto comandante Vilale Orasenadau se continua lo tratamento ienia umar. Motivu idanei tamba partirua la hukidaru. Ida atu be fila saeba nuida halai tumba. Vemak be. Labelle be kontrol tama derpentideit. Ia distanse besikmanu antau be. Partida microletmos bele. Labelle kontrol no be. Usi motorizara mosu be. Ia besikili onanta la ases usi assidenti. Kareta no motorne be involvi assidentini. Orasenadon para ona ya kuartere zeral pente el bokou. Annesen evidencia bakkazune. Usi bokou mari pedruu barteteli.